A San Severo è stato presentato il progetto regionale delle CONI in collaborazione con la Regione e la Federazione Medico-Sportiva Italiana dal titolo Sport in Cammino, che prevede un'azione di prevenzione sanitaria e tutela della salute riferita a soggetti a rischio avvetti da patologie del metabolismo, dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio e anche di sedentarietà ed eccesso di consumo alimentare. La cittadina è da una e tra le sedici indicate dal CONI provinciale, le altre sono Cerignola, Foggia e Lucera. Per il delegato provinciale CONI di Foggia di Molpetta è importante curare l'aspetto culturale anche presso centri polivalenti in fase di selezione e dislocati su tutto il territorio pugliese. Dunque sarà anche importante l'individuazione di trovare anche laureati in scienze delle attività motorie e sportive da impiegare nel progetto Mimmo Siena Speciale News Air.